Tappa 17 Ciascuno di voi deve fare la spesa per la propria famiglia per quattro pasti consecutivi individuando dei menu che siano sia salubri, quindi anche qui potete confrontarvi con il vostro deterente di ATS sulla scelta dei menu, sia sostenibili, quindi con ingredienti con un'impronta ecologica piccola e controllata. Sicuramente i vostri genitori ringrazieranno se vi occuperete di questi pasti ma quello che interessa a noi è che impostiate i menu, raccogliate i dati circa il gradimento e facciate poi una sintesi, dopodiché dovrete discutere tra di voi e divulgare tramite i social i menu che avete utilizzato. Ricordate sempre di pubblicizzare la tappa anche in fase preliminare e mettete delle storie mentre le realizzate e quando avrete il report finale. La macroarea è prevalentemente il consumo delle risorse sostenibili e il massimo dei punteggi è pari ai 10. Buon lavoro! Grazie a tutti!